Grazie mille perché mentre venivo da Bergamo sotto un diluvio universale pensavo in una serata di questo genere tre o quattro persone, invece un pubblico molto numeroso, quindi la prima cosa che posso fare a nome di Madame Duplot, che non siamo noi, è quella di ringraziarvi indubbiamente dalla vostra presenza. Il tema architettura e public art, parlando a degli architetti, pone subito in allarme naturalmente chi è architetto o non è, quindi comincerei, se la cosa non vi dispiace, a riflettere un attimo sul tema della public art e poi forse arriveremo a alcune implicazioni per quanto riguarda l'architettura, ma sarò abbastanza breve e dopo questa introduzione vi faremo vedere alcuni dei lavori che Madame Duplot ha realizzato nel corso degli anni un'attività abbastanza breve perché il gruppo Madame Duplot si è formato nel 2003, quindi siamo nel 2010 perciò un'attività di sette anni. Alcuni lavori organizzati in base a una struttura di rapporti con l'ambiente e con l'architettura. e poi naturalmente se qualcuno di voi sarà così folle da voler domandare qualche cosa noi siamo in grado di argomentare con voi ben volentieri. Bene, allora, quando si parla di arte pubblica ci si trova davanti a un terreno scivoloso perché di fatto si potrebbe sostenere che sempre l'arte è stata arte pubblica. Non è certo una novità degli ultimi, diciamo, 25 anni, 30 anni al massimo. Qualunque monumento in una piazza è un'opera di arte pubblica. Direi quindi che va denotato più chiaramente il concetto di arte pubblica a nostro parere. L'arte pubblica è quando l'intervento che viene realizzato ha significato solo in quel luogo. E quando intendiamo luogo intendiamo qualcosa che è fortemente connotato da un punto di vista architettonico, soprattutto. E quindi è sempre un intervento specifico, si usa quella forma anglosassone che è site specific, intervento fatto specificatamente per quel luogo. Non è possibile portarlo da un'altra parte o portandolo se ne cambia vistosamente la natura. E quindi la prima caratteristica dell'arte pubblica, su cui vorrei insistere, è proprio questa sua specificità rispetto al luogo. E' un luogo connotato architettonicamente. Stando sempre dentro questo tipo di argomentazione, a Madame Duploc fa comodo e importa molto sottolineare che questo luogo fortemente connotato non è mai un luogo in cui l'arte pubblica, così come noi la intendiamo, si espone. C'è una frase di un artista americano che si chiama Robert Smithson. Smithson, che è morto nel 72 o 73, e è l'autore di un'opera che sicuramente voi tutti conoscete, la famosa Spiro Algetti sul Gran Lago Salato, nell'Oiuta. Nel 69 ha compiuto, partendo da New York, un breve viaggio, una trentina di miglia circa, per recarsi a Passaic. Passaic è un'area post-industriale, potremmo dire. E in questo viaggio, Smithson si era portato dietro una macchina fotografica e un libretto di appunti. Il suo lavoro è stato soltanto fotografare questi reperti, ma non era neanche archeologia industriale, potremmo dire, non dei tubi che sfociavano nel fiume Passaic, era una cancellata di una fabbrica, ma mentre produceva quest'opera, disse qualcosa che ritengo per una da duplo che sia significativo. Disse, io non espongo sul luogo, ma io espongo il luogo. E questa è l'altra caratteristica significativa di arte pubblica. Allora, primo passo è un intervento specifico per quel luogo, e non è un intervento che usa quel luogo come uno spazio espositivo. Ma che vuole esporre proprio quel luogo. Quindi, capite bene che questo significa preoccuparsi di quello che è il luogo in sé. E il rapporto con l'architettura, perciò, si rafforza notevolmente. Si rafforza in maniera da produrre una relazione che non è aggirabile, o non è evitabile, partendo da questi due aspetti. Naturalmente, quando parliamo di arte pubblica, poi, mi viene in mente un testo della Perella, intitolato appunto Public Art, possiamo anche dire che l'arte pubblica è quella fatta da quello che è il pubblico. Quindi, non solo un intervento site specifico che espone il luogo e non sul luogo, ma una seconda concezione forte è quella di arte pubblica in cui il pubblico fa l'opera. Quando Madame du Plot, che è stata alla Biennale di Parigi, la quindicesima edizione del 2006, il direttore della Biennale di Parigi, che si chiamava Alexandre Gurita, aveva imposto a tutti gli artisti che partecipavano il seguente principio. Io voglio un'arte senza l'artista. Cioè, non siamo qui per costruire l'ennesima mitologia dell'artista, ma siamo qui per fare arte, sottraendo il più possibile a questo fare arte l'artista. E il nostro intervento, come poi vedrete, l'intervento di Madame du Plot, trappesi un intervento che possiamo anche replicare, tanto per negare quanto ho appena detto prima dell'intervento specifico, era un intervento in cui di fatto Madame du Plot non svolgeva altro che una funzione meramente meccanica, potremmo dire, elettromeccanica, diciamo, visto che era necessaria l'energia elettrica. Ecco, il secondo tipo di intervento allora è quello in cui il pubblico fa l'opera e l'artista in qualche modo butta l'opera, getta l'opera dentro questa dimensione e quindi arte pubblica come arte relazionale. Ma non relazionale tra l'artista e lo spettatore, tra l'artista e il pubblico, ma relazionale tra i soggetti del pubblico. Se dobbiamo sottrarre l'artista, è chiaro che la relazione resta tra i soggetti che sono il pubblico, è il tipo di relazione che i soggetti distinguono tra di loro. E anche questo è un altro elemento che per noi è stato importante nel corso degli anni. Uscire dalla dimensione della galleria, uscire dalla dimensione del museo, uscire da questo white box, questa scatola bianca, perfetta, protetta, che ha il suo pubblico, che ha questa circolarità del suo pubblico, e scomparendo il più possibile, ecco perché c'è un anonimato, ecco perché entro i limiti del possibile, tutela la sua assenza, mandando noi che non siamo Madame Duploc a rappresentarla, sottraendo il ruolo dell'artista, far sì che ci sia una rivitalizzazione del rapporto che il pubblico ha con quello spazio. Io direi che possiamo vedere alcuni interventi se la cosa ha significato e vediamo in che modo se ne può parlare. Dunque questo è un intervento al museo Ianckelevici di La Louvière in Belgio, il tema era la Torre di Babele e quindi è un intervento esterno a un museo. C'è questa forma che è il minareto di Sannara di cui di fatto dopo la seconda guerra con l'Iraq non è rimasto che il primo livello e quindi ha questa colorazione un po' fantasmatica, è un telo montato, era alto 9 metri, ma l'aspetto importante è che in basso c'è un telefono staccando il quale si sentono delle voci, delle voci confuse, delle voci molto eterogenee. Di fatto Babele è il momento in cui si confondono le voci. Quando abbiamo dovuto affrontare il problema di La Louvière, la prima cosa che ci è stato detto è che qui c'è una violenza. La Louvière si trova nel Pai Noir, è una zona di miniere, c'è una violenza la sera dei giovani molto forti, il vostro telefono verrà sicuramente distrutto.